Ciao, sono Viola Dimischi, sono stata nominata per ILS Ice Bucket Challenge da Ruben Svalla e accetto la sfida in modo motore sportivo, aspetta, e io nomino i miei amici che sono anche i miei rivali sportivi, inizio con il mio miglior amico milanista, Evaris Zuni, con un calzatore interista, Arsène Van Moucher, con il fiorentino, che mi odia, Leonardo Bramvilla, poi continuo con il napoletano Alberto Ferlino e finisco con la Roma, a Giuseppe Imo. Auguri!